in sala stampa con mister esposito al termine del match contro il marina di ragusa va via mister il terzo recupero ovviamente si è fatta sentire un po la stanchezza un po come dire anche il raggiungimento dell'obiettivo principale della stagione mercoledì contro il red no io no non credo sia stata una questione di motivazioni più alla fatica delle gare avvicinate chiaramente il trasferimento non è stato agevole in questo periodo si è fatto sentire andiamo via molto molto rammaricati perché avremmo voluto tornare un risultato positivo ecco infatti fa strano vedere l'hanno detto anche i colleghi in sala stampa una partita della santa maria con pochissime occasioni da rete cosa che è successa oggi probabilmente mister in nessun'altra partita di questa stagione impressione mia siamo stati un po appannati un po appannati atleticamente un po appannati nelle scelte giocate ci può stare vista la situazione che abbiamo passato nell'ultimo periodo però siamo arrabbiati e rammaricati perché ripeto eravamo venuti qui per fare un altro tipo di gare per ottenere un altro tipo di risultato mister subito adesso sotto con un'altra partita ormai praticamente si gioca solamente c'è la città di di sant'agata un'occasione per fare bene davanti al pubblico amico e soprattutto per continuare come dire anche un po il turnover in questa fase finale di campionato intanto ci aspetta un rientro poi domani abbiamo concesso una giornata di riposo ai ragazzi perché dobbiamo tutti recuperare energia mentale fisile la martedì prepareremo la partita e la giocheremo al massimo delle nostre costruite come abbiamo sempre fatto da qui dall'inizio del campionato grazie mille bocca al lupo grazie a te